Una piccola isola dell'est dell'Indonesia è stata evacuata in buona parte in seguito all'eruzione di un vulcano che ha causato la morte di sei persone. Il monte Roccatenda infatti continua ad eruttare con colonne di fumo alte fino a 600 metri. L'attività di eruzione resta elevata e a livelli molto pericolosi, ha detto un responsabile dell'agenzia vulcanologa indonesiana. Da ottobre l'attività di Roccatenda, uno dei numerosi vulcani indonesiani, si è intensificata sempre più e il 10 agosto è eruttato in modo prepotente provocando la morte di tre adulti e tre bambini. Gli uomini del soccorso stanno seguendo dunque l'evacuazione di circa 2000 persone che vivono in prossimità del vulcano. Altre 2000 sono state già evacuate, sulla piccola isola restano solamente 8000 abitanti.